Con il diritto allo studio universitario compromesso dall'aumento del caro affitti e dal generale fenomeno inflattivo occorre trovare nuove soluzioni per tutelare gli studenti. È la richiesta che arriva in occasione della conferenza programmatica regionale della Puglia per il diritto allo studio universitario, tenutasi nella residenza Fracca Creta di Bari. Siamo qui disponibili e pronti a garantire tutta una serie di prestazioni che comprendono anche la residenzialità ma chiaramente non possono prescindere da una serie di altri servizi che sono poi quelli che occupano sostanzialmente le questioni e le problematiche quotidiane per cui penso ai servizi di ristorazione, penso al servizio di trasporto pubblico, penso al servizio del prestito libri e quant'altro. Altra questione da affrontare è il servizio di mensa con la necessità di garantire qualità degli alimenti e aumentare le strutture dove erogare il servizio ripristinando gli orari pre-pandemia. Noi porteremo, abbiamo anche stipulato una piattaforma regionale a livello regionale quindi con Link Lecce, Link Bari e Link Foggia in cui appunto abbiamo presentato tutte le proposte sia in termini di bando e quindi soprattutto che ci sia la copertura totale delle borse di studio sia in termini di servizi e quindi parliamo di mense e di alloggi perché purtroppo noi viviamo anche oltre a problemi strutturali delle varie residenze universitarie anche le nostre città continuano ad essere caratterizzate dalla figura dell'idoneo non beneficiario di posto alloggio.